Tutti i signori, facciamo un bel trecidio fino a ora, si possono accendere un po' le luci fuori, perché vorremmo fare una foto al pubblico del ballo della moglie. Allora, perché c'è un po' questa roba che mi fanno in giudicazione, ma qualcuno non so più quella di una volta, sai, questo è il concerto, se ne puoi conoscere, allora questa è la prova che i concerti dei due pochi si guardano da seduti, allora questa è la prova che i concerti dei due pochi si guardano da seduti, non ci sono altri dei due pochi potenti, perché ci sono una foto? Alcune diciamo quello di noi! La Costellazione di morte, la Costellazione di morte, la Costellazione di morte! Allora, è bravo, la Costellazione di morte, è molto bella, ma... La Costellazione di morte! Guarda, possiamo mangiare pure a Francesca Potti, che ci mettiamo in pipa in buon e in buon e in buon, Noi dai facciamolo di prima per fare queste cose Tutti i piedi coni in bocca per la morbidia Un po' di ottenere La Costellazione Vedete eravamo rimati al punto E l'attenzione che faceva bene La Costellazione La, la, la Il rifuuta al tavolo Punti e c'è la cina E scontano un'unità La, la, il rifuuta al tavolo Punti e c'è la cina 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 Punti e c'è la cina